Salve a tutti, in questo video vi mostrerò come poter scaricare i gpx dei vostri amici su strada senza avere l'account premium. Di norma se si ha un account premium si va a premere sul tasto gpx e si scarica la traccia. Ma se non lo abbiamo c'è un altro metodo. Questo metodo consiste nell'installare un'estensione per Google Chrome. Per trovare l'estensione andiamo su Google e scriviamo estensioni Chrome e clicchiamo sul primo sito. Ora nella barra in alto a sinistra scriviamo strada export gpx track. Io in questo caso ce l'ho già installata. Ora comunque vi mostro il procedimento con quest'altra estensione. Per controllare che il procedimento sia andato a buon fine clicchiamo sul tasto menu in alto a destra, poi su impostazioni e infine su estensioni. Se tutto è stato fatto correttamente troverete installata l'estensione strada export. Se non è attiva premere su attiva. Come vedete ora in alto a destra abbiamo il simbolo che ci conferma l'attivazione. Ora torniamo su strada e apriamo la traccia che ci interessa. Noterete che sulla mappa è comparso un ulteriore pulsante chiamato gpx export. Se lo clicchiamo inizierà subito il download. A questo punto se vogliamo rinominiamo la traccia. A questo punto se vogliamo rinominiamo la traccia.